La prima pietra su cui si fonderà la scandone della stagione 2016-2017 è rappresentata da Martin Luhnen. Nel weekend è arrivata l'ufficialità del prolungamento del contratto, ma la notizia era nota essendo stato lo stesso giocatore ad anticipare l'accordo con la formazione irpina. Il prossimo a mettere nero su bianco sarà Marcus Green. Il folletto di Philadelphia siglerà il contratto per una sola stagione ed avrà le chiavi dello spogliatoio. Attraverso uno sforzo economico la società irpina ha raggiunto un accordo per la permanenza di Gioragland. Il club abbellinese ha voluto accontentare l'atleta che in Irpinia si è trovato a suo agio. La firma arriverà. Alberani nel weekend è stato attreviso, dove ha avuto molti colloqui con gli agenti e gli operatori di mercato. I biancoverdi stanno cercando di accelerare qualche operazione, mettendo a posto le caselle tricolore. Gli italiani sono fondamentali. Con Cervi ormai lontano, molto interessato da Bamberg, la Sidigas valuta sempre Marco Cusino nel ruolo di pivot, ma l'intenzione di Alberani sarebbe quella di inserire nel reparto lunghi un giocatore americano che dia verticalità, cambiando così struttura della squadra. Tra gli altri elementi azzurri si seguono sempre Mazzola, Pini e Zerini, che è ovviamente in cima alla lista dei desideri. Tra gli esterni si ragiona su David Cournot, che potrebbe rientrare nel giro delle rotazioni irpine. In ogni caso, c'è ancora tempo per pensare alle strategie, tenendo presente che la Sidigas manterrà la struttura del 3 più 4 più 5.